Vi auguro una serena giornata. Il messaggio di oggi è Isabella. Sì, è il momento giusto per questa nuova avventura. Le tue aspettative positive portano a un esito felice. In risposta alla tua domanda ti confermo che questa situazione è esattamente come speravi che fosse. Resta una buona idea quella di tenere gli occhi aperti e di pregare agli angeli di assisterti lungo il tuo cammino. Anche le situazioni ideali richiedono degli aggiustamenti mentre si procede. Tuttavia noi angeli prevediamo una navigazione tranquilla grazie a questa decisione. L'occasione è resa ancora più propizia dal tempismo perfetto. Ora molti pezzi del puzzle sono al loro posto. Inoltre le importanti lezioni che hai imparato ti hanno preparato. La tua pazienza è stata ripagata e ora è il momento di raccogliere i frutti. Compi passi coraggiosi mentre presti ascolto alla guida sapiente del tuo cuore e procedi senza paura. Questo è il messaggio per augurarvi una serena giornata.